Finalmente ci siamo. Il 4 dicembre lanceremo questa nuova macchina straordinaria, il nostro Super SUV Lurus. Dopo tanta attesa, dopo tanta voglia di fare vedere chi è la Lamborghini, siamo pronti. Una sfida nuova che ci proietterà in una dimensione diversa, in un mercato nuovo, clienti che conosceranno per la prima volta che cos'è la Lamborghini. Quindi, un segmento nuovo, ma valori che sono correnti alla tradizione delle nostre macchine, uniche, straordinarie, dinamiche, aggressive, innovative, che hanno un unico denominatore comune, quella della voglia di vivere alla passione Lamborghini in qualsiasi dimensione. Ed è proprio su questo che ci confronteremo. Abbiamo investito tanto, abbiamo aumentato la dimensione di questa azienda in una maniera incredibile, l'abbiamo raddoppiata, ma l'entusiasmo che si vive tra le donne e gli uomini che qui tutti i giorni fanno le macchine sempre la stessa. Guardare avanti con prodotti innovativi, con la voglia di fare la differenza.